Presidente Massimo Bitonci ha presentato un'interrogazione parlamentare per quanto è accaduto a Venezia alla ministro Maurizio Lupi, perché? Perché è successa una cosa gravissima qualche giorno fa, c'è stata una di queste grosse barche che portano i turisti, che ha quasi toccato la costa e quindi un gravissimo rischio per il balcino di San Marco e per la città. Noi non vogliamo che succedano più queste cose, è da anni che i cittadini tutti si lamentano le istituzioni sul fatto che nel balcino di San Marco non possono arrivare navi così grandi. Ci vuole una soluzione alternativa che tenga conto anche dei bisogni dei lavoratori di Venezia e dei turisti, però non si può rischiare assolutamente un incidente come è già successo in altre parti d'Italia. La Carnival si è giustificata dicendo che non si è avvicinati, ma in realtà questo non è successo. Non si può pensare che un'avaria di motori o anche un euro umano possa creare un danno così grosso e importante a una delle città più belle al mondo. Lei ha parlato di struscio? Ho parlato di struscio perché è stato uno sfioro vicino al balcino di San Marco, un'operazione pericolosissima che poteva portare a una tragedia. Portiamo avanti questo progetto, cerchiamo di far arrivare i turisti a Venezia lo stesso, magari però non così, vicino al balcino di San Marco. Posso farti commentare?